in che mondo potrebbe essere una soluzione infatti si bruciano lecce non saprà mai la verità mamma mia che ansia rapitrice ha vinto lei ci posso credere ci posso credere questo è male ha vinto lei ragazzi di un voto solo allora io le dichiarerei nulle perchè comunque c'è stato detto che sono state truccate ma se uno ti minaccia non sappiamo com'è possibile che siano stati ha vinto allora Anna deve connettere il cervello prima di parlare poi lei è venuta qui a vedere i voti ed è contenta posso frecciarla ti prego va di brutto sta festeggiando devo festeggiare anche noi che facciamo posso festeggiare